Hola, hola a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti e benvenute in questo mio nuovo video. Questo sarà un esperimento di video ASMR o come dicono gli americani ASMR. Non ho mai, non mi sono mai approcciata a questo tipo di video e spesso ne parlavo con la mia amica Federica, la quale invece mi parlava in maniera molto positiva di questa tipologia di video, ritenendoli molto molto rilassanti. Diciamo che in questo ultimo periodo di grande tensione, nervosismo e problemini vari che mi stanno affliggendo, ho provato, ho cominciato a soffrire un pochino di insonnia e ho provato a spirciare e ad approcciarmi a questa tipologia di video. Non tutti mi piacciono, non tutti mi rilassano, ma ho notato che quelli sussurrati sono quelli che mi danno maggiore soddisfazione. Ho pensato, spesso mi avete detto nei commenti che mi lasciate sotto i video di struccaggio serale, che vi rilassa tantissimo ascoltarmi mentre mi strucco. E allora ho pensato, visto che comunque faccio dei video lunghi, una quaresima, e visto che mi rilasso tantissimo a struccare, quando mi strucco il viso, mi sono detta perché non provare a fare un video ASMR. Mi raccomando, fatemi sapere con un commento cosa ne pensate, se è una cosa che può farvi piacere. Non premetto che non sono assolutamente una professionista dei video ASMR, non conosco le tecniche, non conosco i trucchetti. Cercherò solamente di regalarvi un po' di rilassamento, un po' di relax. Vi prego di farvi sapere nei commenti se è una cosa a voi gradita e se pensate che possa farvi qualche altro video di questo genere. Ma adesso iniziamo. Lo struccaggio serale sono stata dalla parrucchiera e sono andata a fare il colore finalmente. Quindi sono molto, molto orgogliosa di questo nuovo taglio. Ora vado a prendere la mia fascia per i capelli, la solita, e mi preparo per questo struccaggio. Come prima cosa vado a struccare gli occhi. In questo periodo sto utilizzando lo struccante bifasico di Carnier Occhi Express 2 in 1. che si può utilizzare anche per i trucchi waterproof. Vado ad utilizzarlo. Lo passo delicatamente da un bono. Sono talmente emozionata che non l'ho neanche agitato. ASMR sì, ma sempre c'è un basono. La natura è quella. Come state? State bene? Stanno per finire queste vacanze di Natale. Non so di preciso quando caricherò questo video. Come ho già detto in altri video, quest'anno non è stato un bel Natale per me. E' stato un Natale un pochino anomalo. E vi racconterò a grandi, grosse linee quello che mi è successo, che ci è successo. Me ne avete sentito parlare tante volte. Nei video, diverse volte. Diciamo che non vi racconterò proprio tutto, tutto, tutto. Diciamo che mio cognato, il fratello di mio marito, il 22 dicembre, è caduto e si è fratturato in tibia e perone. Una brutta frattura. E ha avuto mille disavventure in ospedale. Non vi starò a parlare. Questo deve essere un video rilassante. E quindi potete immaginare il Natale passato in ospedale. Mia suocera è stata ricoverata per un sospetto edema polmonare. Prima che mio cognato si rompesse la gamba questo deve essere un video rilassamento. Adesso vi farò venire i capelli dritti. No, non tranquilli. Ora è a casa ma insomma sta un pochino a giaccatella. Ora vado a struccare il viso. Sto utilizzando questi dischettini di cotonese. Sono maxi. Non mi sto trovando molto bene. Questi sono quelli con aloe vera. Sono molto morbidi. Ma si aprono un pochino e questa cosa non mi piace. Utilizzerò l'acqua micellare di Yves Rocher quella ai tre detossinanti e anche agli sconcioli. Praticamente la finisco insieme a voi questa sera. non so l'audio essendo questo un tablet come potrà risultare. Io ci provo. Sapete che i miei mezzi sono piuttosto scarsi. e quindi vi dicevo che ci sono state queste due cose in più nello stesso momento tutti e quattro i Colors hanno peccato l'influenza in gruenza anche il mio suocero una famiglia malata. Questa è solo una piccola parte delle rogne che abbiamo avuto. ora piano piano si sta risistemando tutto. Una parte delle rogne per le altre ci vuole un po' di tempo. ecco fatto vedete è un ottimo prodotto ora vado a detergere il viso sto utilizzando con immenso piacere e colimento questo gel detergente all'olio d'oliva della sia 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 chiamatela come volete mi è stato detto sotto un commento come si pronuncia ma non mi ricordo tanto per fare una cosa nuova e mi piace tantissimo è un gel trasparente vedete abbastanza denso ora apro l'acqua e mi lavo il viso non mi ricordo non mi ricordo Grazie a tutti. Grazie a tutti. Un po' di tonico, non lasciatevi ingannare, qui c'era in questa confezione, c'era lo spray deodorante per le ascelle di Benecos, che come sapete non mi è piaciuto. Al suo interno ora ho messo il tonico dei promenzali bio, quello alla rosa moscheta, che mi sta piacendo tantissimo, in maniera tale che possa andare a vaporizzarlo sul viso. Grazie a tutti. Mentre il tonico si asciuga, mi lavo i denti. Utilizzo il mio parodontax. Questa volta ho preso l'extrafresh, quello blu. Vado. 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 Ovviamente giro i video e una ciglia mi va nell'occhio. Anche qui non sarò professional, lo sapete non ce la faccio. Il tonico si è asciugato. Ora vado a mettere la mia crema contorno occhi. In questo momento sto utilizzando questa di Brochet, la Anti-Age Global, crema fondamentale, questa. Mi piace moltissimo. Ha questo applicatore in metallo che dà una sensazione di grande freschezza quando viene applicata la crema sul contorno occhi. Massaggio leggermente e poi vado a bigliettare in questo modo, andando anche sulla parte più alta della palpebra mobile, sull'osso, fino a completo assorbimento. Non taglierò. Primo, perché non ho voglia. Secondo, perché sono così. Ora vado a mettere il siero. In questo momento sto utilizzando questo di Bottega Verde, il Collagen Gold, siero super concentrato, azione anti-rughe avanzata. Mi piace tantissimo. E vado a massaggiare per farlo assorbire bene. Domani, mio cognato esce dall'ospedale e con il maritozzo andremo a prenderlo. Andremo noi, io e lui. Si assorbe molto velocemente ed è anche delicatamente profumato. La crema notte che sto utilizzando in questo momento è una crema di Avon della linea Planet Spa. Luxuriously Refining Facial Moisture, con il caviale nero, con l'estratto di caviale nero. Eccola qui. Vedete che bella. ha un profumo buonissimo. Ha una consistenza gelosa. Mi è stata regalata, credo più di un anno fa, dalla mia amica Cristelle. Ma la sto utilizzando, ho iniziato ad utilizzarla da qualche giorno, 4-5 giorni, perché avevo altri prodotti da smaltire. Non so darvi ancora, non so dirvi nulla di specifico e particolare. Come prima impressione è molto, molto positiva. Al mattino non mi lascia la pelle grassa, non mi sveglio con la pelle unta, ma la sento bella, bella nutrita. Sulle labbra, vado a mettere questo prodotto di Anthos. La cera labbra, alla neroli, credo si dica così. Che mi è arrivata in una, credo nell'ultima bio box, o forse nella box di eco più bella, non mi ricordo. Forse nell'ultima bio box. Non riesco la bella, ho le mani sporche di crema. Eccola qui. Si presenta con questo applicatore e l'odore non mi piace per niente, però è veramente molto idratante. Vi basta pochissimo. Eccola qui. Il mio struccaggio serale volge al termine. Ora dispo in diretta. Ecco qui. Colpo di spazzola. Eccola. Anche due. Eccola. 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 Questa sera. Questa sera ha terminato lo struccaggio serale. Io vi saluto. Vi rimando alla visione dei prossimi video. Sempre, solo, se e qualora vorrete. e mai come questa volta vi chiedo di lasciare dei commenti e fatemi sapere se questa tipologia di video realizzata da me può che mi gola qua. Ma che c'è presa? Non è un mociolo perché il raffreddore è finito. E niente, fatemi sapere se vi piace, se posso passare, se questi struccaggi serali li preferite fatti in questo modo. Non lo so, avevo voglia di sperimentare. Ma ovviamente voi, se e che il mio banco di prova, fatemi sapere se avete apprezzato. Io vi mando il mio bacio super strameca galattico. E vi do, in questo caso, la mia buonanotte o il mio buongiorno o il mio buon pomeriggio a seconda di quando vedrete il video. Ciao a tutti!